Le emissioni globali di gas serra sono sulla buona strada per avere la maggiore diminuzione della seconda guerra mondiale ad oggi. Gli scienziati hanno scoperto che sono diminuite del 17% ad aprile a causa delle limitazioni imposte del covid-19 e potrebbero scendere di un altro 7% rispetto ai livelli del 2019 entro la fine dell'anno se restano in vigore alcune restrizioni. Gli esperti dicono che la caduta è solo una goccia nell'oceano rispetto ad anni di danni climatici. La temperatura aumenta di circa un grado sopra i livelli preindustriali che vediamo ora a causa delle emissioni degli ultimi 100-200 anni e ridurre le emissioni nell'arco di un solo anno non serve a nulla. Non farà molta differenza rispetto alla temperatura media o alla concentrazione atmosferica di CO2 che vediamo. La chiave per ridurre le emissioni è stata naturalmente il mancato utilizzo delle automobili ma gli esperti temono che quando le persone torneranno al lavoro il loro uso aumenterà portando ad emissioni più elevate rispetto a quelle prima della crisi. Si stanno dunque esortando i governi ad assicurarsi che le questioni ambientali restino al centro dei piani di risanamento. Alcune di queste restrizioni potremmo mantenerle e potremmo effettivamente avere un vantaggio. Se lavoriamo da casa un po' di più o non dobbiamo viaggiare così tanto per andare a una conferenza internazionale possiamo farlo da casa. Quindi queste cose possono aiutare effettivamente a ridurre le emissioni non influenzeranno troppo la nostra vita. Fra i paesi che hanno registrato un più drastico abbassamento delle emissioni l'India e la Cina.